le fonti pocket news il nostro angolo delle notizie in formato pocket nel quale vi informiamo vi aggiorniamo su quelle che sono le notizie principali in modo semplice rapido e veloce e naturalmente il mondo dell'informazione in questo specifico momento ruota tutto intorno al coronavirus a questa seconda ondata di covid diciannove che sta creando insomma dei timori e delle paure sia sul fronte sanitario ma anche su quello economico ed è da questo punto di vista che noi analizziamo le cose e come sapete se ci seguite abbiamo cominciato cosa che facciamo sempre ma soprattutto in questo contesto abbiamo cominciato a parlare a dialogare con alcuni protagonisti dei settori che maggiormente sono colpiti da questo coronavirus ma soprattutto dalle decisioni che sono state messe a punto proprio per cercare di arginare questa seconda ondata di virus cioè le restrizioni che riguardano alcuni settori del nostro sistema produttivo tra questi c'è anche il mondo dello spettacolo perché ancora una volta è stato detto cinema teatri chiusi i cinema e teatri sono visti come luoghi dove le persone si incontrano questo è vero è chiaro che è un luogo di aggregazione dove le persone si incontrano guardano un film guardano uno spettacolo teatrale però sono visti proprio come luoghi possibili di maggiore contagio per questo si è deciso di chiuderli definitivamente per questa seconda ondata allora io parto da qui fondamentalmente da un dato di fatto per capire che però questo cosa comporta e soprattutto che cosa sta comportando da parte di chi ci lavora nel mondo dello spettacolo che non è un mondo fatto di divertimento meglio anche ma è un vero e proprio lavoro per tante persone non solo per attori che conosciamo che vediamo che ci fanno ridere che ci fanno divertire che ascoltiamo e che magari sono famosi ma proprio per chi lavora dietro le quinte insomma c'è tutta una filiera che in questo momento sta risentendo particolarmente di queste restrizioni io ho il piacere di avere con me per parlarne Gianluca Guidi che non ha bisogno di presentazioni ma insomma Gianluca grazie per essere naturalmente sulle fonti tv grazie per essere con noi grazie a voi dell'invito molto gradito grazie mille Gianluca allora io guarda sono partita da una cosa che potrebbe sembrare molto banale ma che non lo è cioè che il mondo dello spettacolo è visto proprio solo come divertimento come qualcosa a cui possiamo fare a meno e come un lavoro non essenziale è così o è troppo eccessivo partire in questo modo credo che sia credo che sia eccessivo poi che questo sia un paese che non ha mai avuto grande considerazione per chi fa parte del mio ambiente se non forse quello cinematografico è anche vero però devo essere anche sincero bisogna modus in rebus e la verità sta sempre un po' nel mezzo ecco credo che sia corretto o meglio non si capisce bene quale sia la il parametro col quale ragioniamo perché se si tratta di chiudere chiudiamo con le grandi preoccupazioni che affliggono ognuno di noi perché siamo tutti lavoratori la maggior parte senza stipendio senza fisso io sono personalmente sono dieci mesi che non lavoro salvo poche repliche fatte a Roma di uno spettacolo alla sala Umberto e questo però se si tratta di chiudere chiudiamo per l'amor del cielo però capiamo qual è il parametro io non credo che sia le 200 persone scarse che poi in realtà durante la settimana diventavano di media 120 a poter influire su questo se chiudiamo tutti i settori perché questa pandemia c'è questa emergenza sanitaria c'è questo questo virus circola e chiudiamo però però chiudiamo tutto assolutamente perché già luca bisogna partire no ma infatti io la prima domanda che ti ho fatto cioè se era eccessiva era volutamente provocatoria perché chiaramente i lavori sono tutti uguali cioè ma ripeto una cosa banale ma io lo dico hanno pare dignità poco importa che poi se io vengo a teatro mi rilasso e mi diverto e se invece vado a fare un'altra cosa mi stresso però insomma chi ci lavora lavora come lavoro io in televisione come un operaio lavora in fabbrica come un impiegato lavora in ufficio quindi è chiaro però io lo voglio sottolineare quindi era assolutamente provocatore è eccessivo anzi assolutamente offensivo quando si pensa che invece lo spettacolo possa essere messo da parte ma il punto è proprio questo il punto di partenza quello che dici tu è corretto e sei onesto a dirlo cioè se dobbiamo chiudere chiudiamo ci mancherebbe altro però visto che è stata predisposta la chiusura dei teatri del cinema a fronte di una seconda ondata di contagi la domanda banale altra domanda banale è questa ma insomma come facciamo a capire dove e quanto sono contagiati contagiate le persone che frequentano i luoghi di aggregazione come quelli del teatro e del cinema io leggevo per esempio un documento dell'agis dell'associazione generale italiana dello spettacolo che finora c'è stato un contagiato che mi sembra anche poco sinceramente su 350 mila spettatori ora a parte i numeri però come perché chiudere i teatri e cinema e lasciare aperte altre cose questo è il dilemma no di partenza ma scusa se ti interrompo il problema non è tanto cosa o chi lasciare aperto il problema è da prendere a mio avviso la radice del fatto ovvero intanto è un paese in cui hanno parlato tutti di questo coronavirus io pure sempre nel limite di quello che potevo esprimere come opinione ma senza mai entrare molto nel merito poi durante gli ultimi mesi ho compreso che c'era qualcosa che non funzionava riguardo al modus che si stava come dire perpetrando nel tempo lo sbaglio è stato quello secondo me quello di lasciare che tutto avvenisse come un grandissimo tana di beritutti cosa che invece plausibilmente le tre o quattro regole fondamentali del lockdown che ci hanno portato ad avere certi risultati andavano mantenute come andavano mantenute è chiaro che una gran parte degli italiani è stata cosciente è stata rispettosa di ciò che era successo è altresì chiaro che una grandissima parte non lo è stata hanno fatto come se non ci fosse un domani hanno lasciato aperto sport di contatto che nel frattempo hanno dei ragazzi parlo per le scuole che nel frattempo però proibibono all'interno delle scuole stesse la scuola dei miei figli non si gioca a calcio dalle 16 e 15 in poi suona la campanella vanno tutti a giocare a calcio come se non ci fosse un domani con le stesse regole che ha la serie a tranne che adesso io cito un giocatore che è dell'inter che è lukaku fa tre tamponi a settimana ai ragazzi bastano dieci scusi scusami basta l'autocertificazione questo è un paese fondato sull'autocertificazione e questo non è possibile nel momento in cui è saltato il contact tracing abbiamo avuto asintomatici ovunque poi abbiamo avuto anche coloro che hanno detto che gli asintomatici tanto non ci sono problemi ma non si è ancora compresa una cosa fondamentale che è l'asintomatico è vero che è asintomatico e che plausibilmente non avrà problemi grazie al coronavirus il problema è che è contagioso e se contagia qualcuno noi non sappiamo nessuno credo sappia qual è e come l'organismo del prossimo recepisce il virus e quali sono le cause poi scusami quali sono gli effetti che questa cosa può avere in base a questo plausibilmente potevamo evitare di rendere perché è vero è vero che le scuole non hanno responsabilità come partenza ci sono presidi e insegnanti eroici che cercano di mantenere la bolla solida all'interno delle scuole è chiaro che poi dopo alle 16 e 15 vanno tutti da mcdonald vanno tutti da giocare a calcio vanno tutti a giocare a basket vanno tutti a fare al mattino dopo rientrano nella bolla e la contaminano assolutamente i trasporti pubblici tutto ciò che concerne la vita che sta attorno alla scuola che sta attorno al teatro che sta attorno bastavano veramente tre o quattro accorgimenti in più e forse a questi numeri perché forse la seconda andata sarebbe stata lo stesso e forse a questi numeri non saremmo arrivati è anche vero che da tre settimane un mese noi assistiamo a ciò che accade in Spagna ciò che accade in Francia ciò che accade in Inghilterra e ci siamo fatti tanti complimenti su come siamo stati bravi e di colpo il giorno dopo ci siamo svegliati sapendo che non era vero si poi il punto è sempre quello no ci si chiede se forse non dovessimo come paese intendo dire mettere in atto maggiori controlli ecco la polemica poi guarda si si perdonami se ti interrompo io ti faccio un esempio molto semplice che è molto tempo fa non molto tempo fa un po di tempo fa ci fu un'operazione che si chiamava strade sicure credo fatta a fronte di alcuni atti di grande malvivenza di grandi reati commesi di scippi di violenze carnali di stupri di qualsiasi nefandezza si possa concedere e io che giro l'Italia con il teatro da Aosta a Trapani e e viceversa mi rendevo conto che la presenza delle nostre forze armate dei carabinieri della polizia dell'esercito di tutti coloro che rappresentano il nostro stato quando io camminavo per strada anche un'ora tarda magari finito lo spettacolo che avevo finito tardi andavo a mangiare poi dovevo rientrare in albergo e non si trovano magari non c'erano dei mezzi che me lo consentissero quindi camminavo vedere una camionetta dell'esercito non mi dava il senso di vivere in uno stato di polizia mi dava il senso di pensare che c'era qualcuno che stava pensando a noi cittadini in quel momento del bisogno allora se forse le nostre forze armate fossero state spiegate sul territorio tutte la guardia costiera la marina l'aeronautica l'esercito la guardia di finanza la polizia i carabinieri tutti a ricordarci col sorriso non è uno stato di polizia il nostro non lo è mai stato per come dire per per sua natura quindi la presenza dello stato si evince anche da questo c'è qualcuno che ci fa pensare che plausibilmente stanno pensando a noi in quel momento ci stanno ricordando con il sorriso che certe cose non si possono fare certo certi movi certi assembramenti non si possono avere questo non è uno stato di polizia è più plausibilmente un modo per ricordarci che lo stato è presente no no Gianluca ma io sono d'accordissimo con te mi verrebbe da dire in modo amaro che è un po un mondo ideale ma ti spiego anche perché perché poi di conseguenza proprio per la situazione che si è venuta a creare ancora di più in questa seconda ondata con tutte le restrizioni del caso sai no c'è anche rabbia quindi mi chiedo sì con un sorriso sarebbe la cosa migliore però poi bisogna anche vedere qual è la risposta dei cittadini che in molti casi non fortunatamente nella maggior parte ma in molti casi reagiscono in modo fuori assolutamente fuori luogo rispetto a quello che stiamo vivendo dipende dipende questo molto dalla spiegazione che si dà da ciò che da ciò che si deve dire ai cittadini al 4 di maggio quando è finito il lockdown era necessario dire signori ne siamo usciti in un certo modo perché ci siamo fermati adesso non è il tana liberi tutti adesso necessariamente c'è una condotta da tenere a tutti i livelli così salvaguarderemo la scuola così salvaguarderemo il teatro così salvaguarderemo i bar così salvaguarderemo i ristoranti così salvaguarderemo le palestre e tutto ciò che fa parte della nostra vita quotidiana della nostra industria di ciò che siamo noi se non lo fai e non lo salvaguardi di colpo sono arrivati ordate 8 milioni di studenti che hanno aperto le scuole e non dimentichiamoci poi che alle scuole alcune hanno riaperto il 14 altre hanno riaperto il 24 dopo le lezioni altre ancora insomma poi i quattro giorni alla fine se fai i conti di quando è scoppiato il primo il 15 mila che è stato quello che ci ha fatto tremare a tutti è esattamente il momento relativo 20 25 giorni prima quando sono si sono riaperte tutte le scuole certo vero vero tutti i mezzi pubblici hanno cominciato a riempirsi e tutti hanno usato ma io dico questo ora quando stavano varando plausibilmente a palazzo chigi io immagino il nuovo dpcm e stavano decidendo il penultimo quello corto di una settimana che è durato pochissimo a via del corso a roma da piazza del popolo a piazza a piazza venezia c'erano io non credo meno di 10 mila persone stipate l'una sull'altra io ho fatto fatica a raggiungere il teatro dove andavo a fare la pomeridiana la replica pomeridiana perché da tanta gente traffico bloccato chi senza mascherina chi con la mascherina chi ce l'aveva sotto al naso chi ce l'aveva per traverso vero siamo passati come hai detto tu da un momento in cui tutto era tra virgolette vietato a un momento in cui liberi tutti che sembrava quasi io stessa dicevo ma abbiamo vissuto davvero quella fase soprattutto di lockdown sì e me lo ripetevo anche se chiaramente era una richiesta me stessa abbastanza insomma retorica quello questo è chiaro è a un momento in cui ci siamo trovati a dover ripartire quasi da zero proprio perché alcune cose non erano state magari messe a punto o noi stessi non le avevamo più valutate nel giusto modo io ti stavo chiedendo anche qualcos'altro ci aggiungo poi ti faccio replicare anche su su questo che ho appena detto io ma che è quello che stavi dicendo tu la polemica maggiore rispetto alla decisione di chiudere teatri cinema eccetera è che si tende sempre a penalizzare la cultura peraltro il ministro della cultura franceschini ha detto che chi protesta non ha capito la gravità della crisi riferendosi proprio anche alle proteste di voi lavoratori dello spettacolo cosa rispondi al mondo della cultura in generale Gianluca ministro franceschini credo adesso non so se si riferisce io parlo per noi teatranti perché poi ho frequentato pochissimo il resto ho fatto pochissimo cinema devo dire e quindi non so dire esattamente però la protesta credo che nasca in cuor nostro nessuno di noi si ti è dato mai indietro di fronte a delle come dire delle cose che si dovevano dei doveri che avevamo per cui nel momento in cui noi ci fermiamo ci fermiamo io non lo discuto il problema è che bisognerebbe entrare un pochino più nello specifico perché molte persone io sono fortunato ho una vita artistica piacevole ho 53 anni e non mi posso lamentare anche se ti devo dire comincio a preoccuparmi perché io sono dieci mesi che non lavoro ho due figli che mangiano tutti i giorni come i figli di tutti come le persone normali certo a parte i figli come le persone normali e quindi comincio a preoccuparmi perché se poco poco non usciamo entro un mese un mese e mezzo diventa diventa un problema ma bisogna ripeto se c'è il bisogno di farlo noi lo facciamo però il ministro franceschini dovrebbe entrare un pochino più nello specifico e comprendere a mio avviso ma non è una critica è semplicemente una considerazione che non esistono soltanto attori fortunati come sottoscritto esistono attori che non lavorano da dieci mesi e che non hanno come dire lo stesso tipo di relazione con gli stipendi che posso avere io o addirittura colleghi che guadagnano molte volte più di me che ci sono i tecnici che ci sono i musicisti che ci sono i fonici che ci sono le sarte che ci sono gli elettricisti datori luci i macchinisti direttori di scena i trasportatori c'è tutta una categoria di persone che si è dovuta fermare e attenzione perché la ripartenza del teatro privato intanto io devo essere sincero detesto la parola ripartenza se avessimo compreso che questo era un nuovo inizio da combattere tutti insieme forse non saremo arrivati a questo perché non eravamo poi così tutti quanti eccezionali prima dell'arrivo di questo simpatico virus quindi me compreso ovviamente ci mancherebbe altro per cui forse una nuova cosa da inventarsi come sistema di vita di considerazione del proprio di ciò che ci circonda forse la più opportuna ma dipendentemente da questo la ripartenza dei teatri privati non quelli pubblici che hanno la loro come dire natura molto diversa per natura diversi sono da quelli privati chiedo scusa hanno riaperto chiedendo a noi per esempio compagnie di fare due spettacoli in due giorni diversi perché dovevano dividere i propri abbonati perché non avevano avevano il limite dei duecento posti certo certo quindi noi saremmo rimasti su piazza due giorni per fare due spettacoli e avremmo percepito una paga soltanto perché non è che il teatro giustamente ospitandoti per metà della platea poi ti dà due volte il cachet o il compenso alla società di produzione quindi noi saremmo rimasti su piazza anche il secondo giorno su piazza intendo nella stessa città senza paga come è giusto che sia e devo anche essere sincero credo tutti ma senz'altro in grassia e io lo abbiamo fatto con paghe estremamente ridotte pur di ricominciare ma quando dico estremamente dico estremamente se io non voglio entrare nel merito della faccenda perché sembrerebbe è brutto e squallido ma estremamente però l'abbiamo fatto e se ci chiedono di fermarci e c'è un'attitudine coerente dappertutto compresi i trasporti pubblici compresi i banchi a rotelle perché sarai curioso se domani mattina noi andassimo in lockdown cosa che non auguro ovviamente a nessuno e si dovessero chiudere completamente le scuole vorrei capire la didattica a distanza quanto hanno investito per mantenere la scuola se non in presenza che è la cosa prioritaria e siamo d'accordo tutti su questo ma su quella a distanza i problemi nel lockdown ci sono stati io me lo ricordo benissimo i miei figli sono fortunati perché hanno un padre che a sua volta è un uomo fortunato e quindi problemi di didattica a distanza non ne hanno avuti ma ci sono ragazzi che non hanno capito nemmeno come poteva eventualmente funzionare la didattica a distanza no no ma assolutamente ma poi con tutte anche le problematiche sai di connessione no Gianluca perché molte famiglie io ho parlato questo sto dicendo esatto esatto con molti di loro non riuscivano proprio a collegarsi e quindi non potevano garantire il servizio io ricordo che alla fine del lockdown ci fu una commissione istituita a a cui vertice c'era Colao che è un manager un ottimo manager pare io non lo conoscevo devo essere sincero e lui ha detto una cosa molto importante ha detto facciamo degli investimenti adesso che servono per il presente ma che poi siano redditizi nel futuro questi sono gli investimenti formidabili noi avremmo potuto cablare in sei mesi l'Italia come la Silicon Valley regalare regalare computer ai ragazzi della Sila che non li hanno o dell'appennino tosco emiliano che magari non hanno la connessione perché poi l'Italia è una e noi che stiamo a raccontarci la Calabria la Emilia Romagna i ragazzi quelli che vanno a scuola sono tutti italiani tutti i ragazzi che hanno il diritto di ricevere questa istruzione però allora invece di fare il bonus monopattino fai un bonus computer di 350 euro per ogni bambino tu sai benissimo dove non ha funzionato la DAD lo sai per non tu dico Manuela dico in generale sappiamo benissimo che il ministero deve saperlo per forza dove non ha funzionato la DAD sì e sì che peraltro è certo no stavo dicendo peraltro abbiamo passato mesi a parlare di digitalizzazione nuove tecnologie proprio perché in teoria il discorso dello smart working e della didattica a distanza soprattutto per le scuole secondo qualcuno ci aveva insegnato qualcosa finalmente no ma in realtà poi non se ne è parlato esattamente questo e sono arrivati i banchi a rotelle che probabilmente avranno anche una spiegazione a me sfugge però sono il primo a dire ho sbagliato io mi dispiace avete ragione se così fosse e invece no io devo sapere che a vincere di riusa hanno plato e messo ai fai a un ragazzo gli hanno dato un computer che va a scuola non è in presenza è terribile lo so però è meglio avere comunque se la scuola ha così tanta importanza a distanza fatta bene comunque mantiene il suo valore grazie proprio al personale della scuola io non credo che ci sia un preside o un insegnante che dicono no no adesso basta noi a DAD non la facciamo perché non ci va perché non ci piace no certamente no certamente la loro missione è quella di insegnare ai ragazzi che glielo facciano in presenza ed è quello che auspichiamo tutti è una cosa che lo facciano a distanza è un'altra ma che lo possano fare è la cosa fondamentale assolutamente sì Gianluca allora volevo arrivare prima ovviamente di salutarti a il mettiamo così post di tutta questa faccenda fermo restando che purtroppo non possiamo sapere quando partirà la fase posteriore di questo maledetto coronavirus anche lunga lo so anche appunto e quindi cercando di capire cercando di capire insieme io e te anche se insomma da soli non possiamo far molto ma lanciamo quantomeno un messaggio che è quello che almeno sia per il mio lavoro che per il tuo riusciamo a fare no perché comunichiamo allora a partire Gianluca però dalla notizia del decreto ristori che contempla anche gli aiuti ai lavoratori dello spettacolo cioè si parla di questa indennità allora come la valuti cioè può essere un punto di partenza inutile cioè che parola che non so come la definiresti questa questa presa di posizione da parte del del governo italiano non la definirei però forse ho perso io qualche puntata della faccenda oppure io non la definirei una presa di posizione la definirei una decisione sì certo certo assolutamente di aiutare la categoria non lo so io ti devo dire la verità io ho una visione curiosa che possibilmente molte persone non sposeranno però vedi io ho avuto mio papà che poi non è poi cresciuto così male nel tempo che ha i suoi difetti come tutti ma insomma non ha subito perché è stato sotto le bombe per cinque anni durante il conflitto mondiale ha visto i nazisti ha visto la qualunque è stato un migrante a sua volta è matto negli Stati Uniti è rimasto davanti a New York tre giorni nella casetta dove tenevano i coloro che arrivavano dall'estero per poter entrare per cui ho una visione molto spartana io della vita arriva un momento in cui se si deve fare qualche sacrificio lo facciamo e se c'è uno stato che però lo fa e adesso se ci chiude tutti riorganizza veramente non facendoci vedere che il male peggiore di questo secolo oltre al cancro è la crisi della competenza perché poi la verità è questa perché la politica è distanziata dal cittadino semplicemente perché non sono c'è una crisi di competenza il cittadino non riesce più a capire non capisce di cosa stanno parlando perché non lo sanno nemmeno loro questo è il punto ma non parlo di destra di sinistra di ideologia parlo come una categoria come noi teatranti sì sì ma chiarissimo è chiarissimo no 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 io sono apolitico faccio il giullare per me è nobile senso del termine per me chi paga il biglietto di destra di sinistra a patto che non sia un estremismo tantomeno violento per me pace fa entra da teatro e mi viene a vedere se credo e lo desidero ovviamente perché poi non è obbligatorio ho una visione spartana si deve tirare la cinghia la tiriamo tutti però fateci vedere che adesso questo mese e mezzo non parliamo delle vacanze di natale vi prego facciamo la finita con questi luoghi comuni delle vacanze di natale facciamo in modo che le persone possano magari riabbracciare i propri cari che non vedono da tempo questo sì ma non voglio più vedere le code alle cabine del mare o alle impianti sciistici perché allora vuol dire che non state controllando e se non controllate e allora noi a febbraio poi siamo da capo assoluta in campana perché poi la vita è questa sì sì ma l'abbiamo visto insomma diciamo che rispetto alla prima ondata insomma un minimo di esperienza ce la siamo questa è plausibilmente peggio della prima ondata sì 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 però dico però a livello di esperienza abbiamo visto cosa è accaduto nella prima esatto bisogna stare molto attenti al dato ai medi delle terapie intensive e dei decessi perché se la carica virale è come se fosse un uragano che si nutre l'uragano si nutre di umidità ecco perché trova terreno fertile certe stagioni nell'oceano e questo virus ha le stesse a mio modo di vedere ha la stessa capacità di nutrimento rispetto a posti dove c'è molta densità di terreno dove lui può più c'è e più lui si alza mi sembra questo io non ho alcun tipo di di esperienza in materia però non non parliamo delle vacanze di natale no 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 sono d'accordo parliamo piuttosto così chiudiamo in questo modo già luca del fatto che presto sono certa verremo tutti a rivederti in teatro quindi insomma può essere di di buono aspiccio e ovviamente ci riservi un bel posto in prima fila questo è chiaro no sarà 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 fatto molto volentieri ma ci mancherebbe altro certo assolutamente si gialluca guidi grazie gialluca insomma ma grazie a voi mi auguro poi di di sentirti presto ma lo faremo così almeno anche nelle prossime puntate come dire aggiorneremo su quello che succederà a tutti tanto navighiamo a vista come dici tu tutti insieme anche perché poi se si chiude un settore come in questo caso quello diciamo più genericamente dello spettacolo del teatro del cinema della cultura ci rimettiamo poi tutti no perché a catena eh più o meno indirettamente riguarda tutti noi quindi insomma eh ci sentiamo presto e grazie per essere stato con noi grazie a voi grazie grazie a Gianluca Guidi bacio ricambiato dei nostri telespettatori e grazie a tutti voi per averci seguiti in questa puntata di Pocket News l'informazione di Le Fonti TV che sta anche in tasca grazie a tutti grazie a tutti